Raffaele Delliquadri, sei un veterano di questa manifestazione, vuoi dirci quanti anni interrottamente sono che porti l'Indocce? Quest'anno festeggio 40 anni di portatore, ho iniziato a 13 anni, fate conti. Qual è la contrada con cui scendi in campo? Io rappresento la contrada di San Quirico, che è una delle più grandi dell'agro agnolese. A 20 anni dalla manifestazione di Roma, quest'anno cade l'anniversario, che emozioni? A Roma è stata un'emozione grandissima, rimane segnata nella vita perché quella sera veramente non riesco ancora a immaginare che cosa ho provato. A pochi minuti dall'accensione, cosa si prova a mettersi addosso quelle indocce e sfilare lungo il corso principale di Agnone? Ma un vero agnonese ce l'ha nel cuore.